Oggi siamo, come potete vedere, sulla demo di FIFA 17 Allora signori, entriamo, eccoci qua Come vedete la schermatina è questa, vi facciamo il meglio Vieni controllo della condizione, tanto sarà un po' inutile Vieni amicheggio, questo non importa, vi dice soltanto cosa è cambiato dall'altro FIFA essenzialmente Il viaggio avanti, ok, e oggi proveremo proprio il viaggio con Alex Hunter signori E' qualcosa di fighissimo, ho visto il thriller l'altro giorno ed è tipo fighissimo, una media incredibile Eccoci qua, preparate l'evuzione Questo è lo spogliatore del Magister United Questi sono già i nostri agenti, dovrebbero essere Hunter e Volker, tutte e due prese a Magister Did they spell your name right, Mipety? De Roma Regione Questa sarà quando già abbiamo prodotto in squadra maggiore di prima liga Ovvero il Magister United All right lads I don't need to tell you how important a winning start is Keep it tight, work hard for each other and the chances will come We've all seen the team's sheet, Walker, he'll lead in the line Hunter and the rest of the subs are when you're ready, you're not there to get a suntan Let's go and show these supporters what we can do, eh? Ibra è un fortuna signori eh Ibra è un fortuna, perciò gioca a Volker Let's get these three points, eh? Time to make my mark Hmm Diva No No It's time All right, that's us boys Starters to the tunnels, subs to the bench Let's look like we mean it Jack Ok controlla squadra e controlla Hunter Bench' voglio fare un po' di play un po' più lungo Allora United è al sesto posto Se vici questa partita penso non va a prima, però te i primi quattro sicuro Premi start per continuare E andiamo signori Molto bella Guardate qua Mamma mia Mamma mia Un po' rositiamo perché lo andiamo in meno Essenzialmente Ok, Marsella deve gli dare possaggio E Volker segnala Oh, what a great moment Gareth Walker On his Premier League debut But what a finish And he will never forget this moment Ibra è tale qua L'anno scorso Mike è da un ball Gioca sempre da un ball I FIFA è sempre stato un ball Molto verino Molto verino Molto verino Molto verino Perché il pubblico dice che sei Chi sei, chi sei, chi sei È per chi? È per chi? Benissimo Voglio giocare E' tutto così incredibile, no? Io avrei detto la stessa cosa Con si è stato in Hunter Ok, vediamo un po' Fai colpo sul mister Uomo squadra, spezza l'equilibrio Ok, si può fare Ok Ok, questa è la schermata comunque di FIFA 6 Di un fia 17 quando andate sul menu Nella partita Entriamo a posto di Hulk Ok, allora Cerchiamo di fare subito impressione Brutto contrasto, no? Ok 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 Prese il pallone, attenzione signori Hunter Hunter Nooo Ma vedi un po' Davanti alla porta Kurt Lock e Bapparà Ma Ma Che fai? Ma 7.0 Buono Cerchiamo di segnare forza Ah Ah Hier's William Shhh Great work for the referee In terms of playing the advantage law there for Chelsea Ah, i sestrugiatore Ok, allora, ottantesimo, possiamo segnare Forza Eh, ma veniamo contrastati così Eh Ma questo è scemo Non dice la difesa Non capisco, non capisco E andiamo Però me la sono chiamata io a lune Fa niente Magari segniamo dopo Va bene signor, dobbiamo che stiamo facendo un'ultima partita Grandi così Vuol dire che stiamo pressando Chiamiamo di fare qualche dribbling per andare in porta Che andiamo Che andiamo Che andiamo Che andiamo Prima cosa Il nostro socio Che andiamo Mi porto in mente il trenoista giusto Prima Alexander E poi il nostro Fulker Che andiamo Che andiamo Di possiamo Che andiamo Che e Che andiamo Che e Che Che Кто Che Che cel Ma Che 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 Me e andiamo penso che sia una bellissima partita proprio fatta proseguiamo intervista e sono contento di aver potuto giocare bello, bel gioco bello, bello, mi piace un momento speciale attenzione possiamo fare due scelte possiamo capire come far avanzare l'allenatore però non ho capito forse parlo della squadra la squadra ha giocato bene ok, ha chiesto un parere comunque stiamo dicendo di alzare l'allenatore abbassare i follower alzare la squadra benissimo grazie alex grazie alex grazie che devo dire che devo dire è molto bello molto bello da dei giorni mi è piaciuta non vedo l'ora di giocarci nella demo cioè nel gioco ufficiale che uscirà il 29 settembre e niente il calcio di inizio del gioco lo vedo abbastanza rallentato molto bello di grafica e mi piace mi piace tantissimo signori se vi piace se volete vedere